Quindi è importante anche per la pace, la diplomazia della cultura. La cultura produce pace e lavorare insieme sulla cultura lega i popoli in maniera molto maggiore l'alleanza. Grazie Presidente. È interamente scavato nella roccia, aveva tre registri orizzontali e sei cune, in sei divisioni verticali. Ci sono ancora le scale? Sì, ci sono. L'avete insegnato? È quello che rimane, l'ora delle scale e c'erano anche questi due accessi laterali che erano in parte scavati e in parte costruiti.